buonasera a tutti benvenuti in questa nuova puntata di tana libero tutte il progetto che ormai ci vede in compagnia in sinergia già da qualche settimana un progetto dedicato proprio alla lotta contro gli stereotipi di genere e oggi torniamo all'interno della città in queste puntate diciamo ci fermeremo per qualche episodio all'interno proprio della città di grosseto degli istituti questo in questa serata vi farò ascoltare le interviste dell'istituto comprensivo grosseto 4 il plesso viaggiotto con gli alunni della quarta a della quarta primaria e oggi prepararsi perché oggi c'è una bella un bel personaggio è sicuramente una donna che tutti conosciamo e questo questa serata i nostri alluni ci portano nello spazio perché parliamo di una donna coraggiosa una donna che ha effettivamente sfidato non solo il cielo ma ha oltrepassato proprio gli stereotipi di genere e parliamo di samantha cristoforetti gli alunni hanno scelto insieme alle maestre di dedicare diciamo la la loro ricerca al loro approfondimento su questa donna e parliamo proprio di un astronauta eh sì perché alla fine fino a quando era piccola la cristoforetti alla cristoforetti piaceva guardare le stelle fantasticare su che cosa ci fosse lassù nello spazio e chi di noi non l'ha mai fatto nel guardare al di là dell'orizzonte e nel suo caso molti gli dicevano che il suo sogno era impossibile anche noi magari è capitato di sentircelo dire io stesso ho fatto questa domanda a qualcuno di loro dicendo se ti dicessero che quel lavoro non lo puoi fare perché sei una ragazza perché sei un ragazzo quindi come reagiresti ecco lei l'ha subito perché le dicevano che doveva fare cose da ragazze no come giocare con le bambole imparare a cucinare in realtà lei sognava di andare nello spazio ecco lei non ha voluto seguire proprio questi stereotipi lei voleva essere libera di inseguire i suoi sogni non importa cosa le dicesse la gente in pratica quindi che cosa ha fatto è stato un esempio perché ha studiato molto ha lavorato duro e soprattutto ha dimostrato a tutti che anche una donna può diventare un'astronauta e così sale sulla navicella spaziale e viaggia nello spazio in tante interviste lei ha sempre dichiarato che è incredibile vedere la terra da lassù quindi sospesa in questo infinito universo e lei ha dichiarato che si è proprio resa conto no che non importa se sei un ragazzo una ragazza cioè quello che conta è la tua determinazione il tuo impegno proprio nel perseguire i sogni ed è un po anche quello che questi ragazzi hanno questi bimbi hanno fatto emergere dall'intervista lo sentirete parlano proprio di abbattuto tutti gli stereotipi per loro è diventata proprio un esempio no in alcune bimbe mi hanno detto io voglio fare la veterinaria io ci crederò in quello che faccio io crederò nei miei sogni e i bambini stessi i ragazzi i maschietti hanno indicato dobbiamo far capire che chiunque può fare qualsiasi lavoro è un po questo no oggi quali sono i vostri sogni magari ascoltando queste interviste torna un po no a me è capitato di riascoltare ovviamente per preparare la puntata e questo pomeriggio riascoltando questi bimbi ha detto eh caspite quali sono stati i miei sogni cosa volevamo diventare noi adulti quando eravamo piccoli ci chiedevano cosa vuoi fare da grande e questo mi ha fatto ricordare che un altro impegno che noi abbiamo come adulti è proprio quello di ricordare ai giovani di non lasciarsi fermare proprio davanti anche agli stereotipi di genere che loro possono essere davvero ciò che vogliono bisogna crederci e certo bisogna anche lavorare sodo per realizzarlo io quando parlo con i bimbi all'inizio e poi alla fine quello che ricordiamo sempre voi siete il futuro dovete lavorare sodo per realizzare un futuro migliore un futuro in cui i valori devono essere dei valori sani e quindi direi che possiamo approcciare questo nostro viaggio tra le interviste un po come la Cristoforetti ha iniziato il suo viaggio nello spazio e anche questa sera viaggiamo nella lotta proprio contro gli stereotipi di genere che con i bimbi della quarta A è giunto al termine insomma perché Samantha Cristoforetti ha ispirato e è stato piacevole ascoltare la sua storia dalla voce dei bimbi è stato anche bello sentire le impressioni e i pareri di questi alunni ovviamente un ringraziamento va sempre anche alle maestre che spesso ci dimentichiamo di fare ma loro insomma hanno un compito importante nella loro carriera insomma di accompagnare questi alunni si spera che poi anche tutti gli altri a venire quindi i professori delle medie e del liceo insomma dell'università continui davvero a far sognare i ragazzi perché alla fine non dobbiamo mai dimenticarlo quel piccolo sogno perché manca un po quello che ci dà quella bella energia quella voglia e quella determinazione che è la cosa essenziale che serve io vi lascio adesso alle interviste come sempre raguzzare l'orecchio perché ci sono le belle voci grintose ma anche quelle un pochino più lievi dei bimbi più emozionati e come sempre non fermarsi all'emozione perché tanto quella c'è in ogni in ogni persona in ogni bimbo che che ci ha raggiunto in postazione come sempre la radio al suo impatto soprattutto su bimbi così piccoli è proprio una bella novità e piace tanto perché poi dopo che fanno quel momento fanno l'urlo liberatorio del saluto e come sempre poi diventano delle macchine incontrollabili quindi si parla così come non ci fossero domani e iniziano delle lunghe chiacchierate per cui è normale e bello davvero stare insieme alla alla gioventù io vi saluto vi lascio alle interviste e vi aspetto vi do già anche i saluti questa sera perché poi ho la diretta delle 21 per cui arriviamo giusti giusti quindi vi lascio alle interviste noi ci troviamo martedì prossimo sì perché non è più festo ok sì martedì prossimo ore 19 qui Radio Norbo reali satana libero tutte buona serata a tutti voi e buona pasqua io do il benvenuto a tutti perché siamo in una nuova tappa questa nuova puntata che è dedicata all'istituto comprensivo grossetto 4 e siamo in compagnia della classe primaria quarta a io ho già due inviate speciali che sono davanti a me e sono un pochino timide ma sono un pochino ansiosa perché sono le prime ma adesso noi ci sciogliamo un pochino innanzitutto a questo punto chiederei a voi due quindi a Nicole e a Leda chi è il personaggio che avete scelto e perché lo avete scelto abbiamo scelto abbiamo scelto Samantha Cristoforetti perché è interessante ascoltare la sua storia perché ha battuto tutti gli stereotipi ed è stata la prima donna italiana ad andare nello spazio caspita Leda che cosa ti ha colpito oltre ad essere stata la prima donna nello spazio cosa ti ha colpito della sua vita che è riuscita a battere tutti gli stereotipi noi facciamo la stessa domanda anche a Nicola te che cosa ha colpito di Samantha che ha fatto tanti viaggi e ha sempre battuto tutti gli stereotipi e visto che sono tanti ce l'ha fatta in tutto questo tempo e sei stata veramente brava e voi siete contente anche voi di fare questo percorso che avete fatto avete studiato anche in classe e avete diciamo delle opportunità di fare dei piccoli gesti per cambiare il futuro sì mi piacerebbe tanto infatti da grande forse lo farò e tu Leda invece dimmi la tua sono molto contenta per aver partecipato a questo progetto e per far capire agli altri che ognuno può fare quello che vuole e direi che è un ottimo messaggio io farei un bel applauso per loro continuiamo con le nostre interviste e continuiamo a parlare perché abbiamo qui Florina e Amelia io direi visto che Florina ha già in mano il microfono ed è pronta ti chiederei dove e quando è nata Samantha Cristoforetti Samantha Cristoforetti è nata nel 1977 26 aprile a Milano ma è originaria di Trento e secondo te Samantha può rappresentare un esempio per le altre donne o per le altre bambine in questo frangente? perché ci sono alcune donne che vogliono fare un lavoro ma qualcuno lo giudica per me Samantha rappresenterebbe o una nave spaziale o un tacco perché ha battuto gli stereotipi ok diciamo che ha lasciato il segno questa donna io direi che possiamo fare un applauso anche per loro continuiamo come sempre e adesso qui davanti ho tre nuovi inviati ho Carlo che ha già il microfono in mano e poi ci sono l'una in mia Carlo io chiederei a te una domanda molto breve dove abita abitualmente Samantha? Samantha abita in Germania con il suo compagno Lionel Ferra che è un ingegnere aerospaziale che si occupa dell'addestramento degli astronauti e visto che insomma abbiamo qui anche l'una in mia mi dite anche quante lingue parla? Samantha parla inglese, russo, tedesco e francese le prime due lingue sono utilizzate nelle comunicazioni spaziali tra la stazione spaziale e il centro di controllo che cosa vi è piaciuto studiare di questa donna? la considerate un'eroina? sì come mai? ci è piaciuto studiarla perché è stata la prima donna a andare sullo spazio e ci ha dato l'insegnamento che ha combattuto gli stereotipi e Carlo visto che sei il maschietto del gruppo per te quanto è importante combattere proprio contro gli stereotipi di genere? secondo me è importante perché dimostra che ognuno può fare quello che vuole allora chiediamolo magari anche a Mia a te che cosa ha insegnato studiare Samantha e quanto è importante per la lotta contro gli stereotipi di genere? è importante perché le femmine possono fare quello che vogliono senza che qualcuno le dice che non possono farlo ok io direi che possiamo fare un bello applauso anche a loro ottimo stiamo imparando tante cose di questo personaggio di questa nuova donna e visto che ho qui con me in postazione adesso mi hanno raggiunto Adele e Nicolò Nicolò tu hai già il microfono direi che ti faccio anche a te una domanda mi racconti un po' quali studi ha fatto Samantha? Samantha Cristofaretti ha studiato a Bolzano e poi a Trento consegue l'aereo magistrale in ingegneria meccanica all'università tecnica di Monaco di Baviera nel 2001 si iscrive all'accademia aeronautica per diventare pilota militare e nel frattempo sta studiando per ottenere una seconda laurea in scienze aeronautiche secondo voi Samantha ha incontrato delle difficoltà proprio per il fatto di essere donna? sì secondo me sì perché col fatto che ovviamente ha battuto tutti gli stereotipi ha avuto pure secondo me pure tante difficoltà anche secondo me ha avuto molte difficoltà perché non è poi così facile per una donna essere un'astronauta e secondo te Nicolò come possiamo fare? quindi voi siete due bambini no? quindi avete tutto il futuro davanti cos'è che potete fare voi anche pensando alla storia di Samantha per migliorare un po' la situazione che abbiamo e quindi essere un pochino più tutti uguali nei diritti tipo pensare agli altri che se noi tipo abbattiamo gli stereotipi facciamo coraggio pure ad altre persone in modo che pure loro possano abbatterli e finiamo ad abbatterli tutti e direi che è un ottimo proposito invece tu Adele? io io farei quasi lo stesso però pure per aiutare gli altri perché la gente comunque può immaginarsi tutto il percorso che ha fatto lei tutti questi anni perfetto vi ringrazio un bell'applauso anche per voi continuiamo qui abbiamo sempre un cambio di nuovi inviate adesso abbiamo qua davanti Arianna e Adele e visto che Arianna ha già il microfono in mano è prontissima ti chiederei come e quando è nata la sua passione per lo spazio la sua passione per lo spazio è nata sin da bambina guardando il cielo e anche da un film di fantascienza intitolato Star Trek Adele adesso è tu il microfono che cosa ti ha insegnato studiare questa donna? mi ha insegnato che comunque si deve inseguire i propri sogni e nonostante degli ostacoli devi comunque continuare a inseguirli e voi ne avete dei sogni da realizzare? sì ce ne ho tanti ce ne ho molti uno di questi è tipo che da grande vorrei lavorare a fare il dentista e se ti dicessero il dentista non lo puoi fare perché lo fanno solo gli uomini cosa diresti tu? io direi che non è giusto perché tutti hanno il diritto di fare il lavoro che gli piace credo che sia assolutamente doveroso farlo ecco perché noi ci battiamo perché tutti si abbiano gli stessi diritti direi che possiamo fare un bel applauso anche a loro allora io direi magari visto che Adele è rimasta qua in nostra compagnia si sono avvicinate in postazione radio anche Agnese e Anna Luna Adele visto che stavamo parlando un po' della missione dello spazio in che anno Samantha ha compiuto la prima missione? la sua prima missione è stata il 23 novembre 2014 e direi passiamo al microfono anche ad Agnese e Anna Luna chi di voi mi vuole rispondere qual è? quali emozioni ha provato prima di partire? lei ha provato un'emozione intensa però ha avuto anche il timore che le cose sparissero in una nuvola di fumo per poi riapparire era come se la terra la stesse salutando che cosa vi è piaciuto studiare e scoprire di Samantha? a me mi è piaciuto che ha combattuto tutti gli stereotipi che quindi ha pure fatto capire a delle donne che non devono fare una cosa fissa che possono fare meglio di pare e anche te Anna Luna che cos'è che ti ha insegnato maggiormente studiare la vita di Samantha? mi ha insegnato studiare che lei fosse stata la prima donna a andare sullo spazio e secondo voi perché è importante proprio per voi bambini bambine imparare a non avere questi stereotipi? ci hanno fatto imparare che le donne possono fare quello che vogliono sono libere di fare tutto ok io direi di fare un bel applauso abbiamo fatto un cambio di nuovo perché qua ci alterniamo tutti e adesso abbiamo dato il microfono a Vasco che è lì pronto che non vede l'ora di parlare ascolta mi Vasco sempre inerente a Samantha quante missioni ha fatto? Samantha Cristoforetti è stata un anno e quattro giorni nello spazio sfrecciando a 27.000 km orari con ben due missioni sulle spalle a bordo delle ISS Stazione Spaziale Internazionale Allora visto che adesso ha finito la risposta Christian e Christian chiedo anche a te che cosa ti ha insegnato la vita di una donna che è stata molto importante per l'Italia? Mi ha insegnato che quando una donna vuole fare un lavoro che vogliono fare che possono fare solo gli uomini la donna deve dire che i lavori possono farli tutti tutti i lavori tutti e non i lavori degli uomini e degli lavori delle donne per forza E Vasco io ti lascerei questo spazio in radio per provare a parlare alle bambine delle altre scuole della tua classe per incoraggiare che cose le diresti per dare un messaggio alle altre bambine? Allora se voi volete fare un lavoro che ne so vi piace tanto ecco l'astronauta per esempio siccome è un lavoro che ora stiamo riuscendo a farlo raggiunge anche le donne ma comunque è principalmente per gli uomini voi non dovete dire se tipo il un tipo Lionel quello lì Lionel Ferra vi dice no non potete farlo perché ho lavoro da uomini voi dovete dire voi non dovete andare bene via deluse dovete combattere per questo obiettivo e magari prima o poi otterrete qualcosa Beh direi che non c'è niente da aggiungere sei veramente di un di una bella come dire un bel messaggio hai dato bene un bel applauso anche per loro Torniamo qui a parlare con i nostri alunni della quarta di Samantha Cristoforetti ho davanti a me Leonardo che è microfonato e alla quale chiedo quanto è durata la sua missione più lunga La sua missione più lunga è durata ben 199 giorni ed è intitolata la missione futura durante quei giorni ha compiuto anche molti esperimenti sulla fisiologia umana Allora a questo punto chiederei anche a Francesco di spiegarmi un attimino questa fisiologia umana La fisiologia umana è come reagisce il corpo a cioè posti diversi in pratica tipo nello spazio in un modo e nella terra in un altro E tu invece sulla missione di Samantha che cosa mi dici cosa mi racconti anche di lei che ti ha colpito? Che con questa missione ha battuto il record europeo e il record femminile di permanenza in orbita in una sola missione E a voi ha colpito che tutto quello che è stato fatto è stato fatto proprio da una donna quindi da Samantha vi ha colpito? Cioè mi dite anche perché? Sì perché per una donna sarebbe stato molto difficile fare questa roba queste cose tipo andare sullo spazio con una nave spaziale Secondo voi perché è importante studiare delle donne che per l'Italia in questo caso hanno dato un bellissimo esempio? Studiare le donne soprattutto Samantha Cristoforetti che ha battuto molti stereotipi è molto importante soprattutto per le ragazze per non abbattersi per il genere che si è e continuare a inseguire i propri sogni anche se ci sono molti ostacoli e credo che sia molto importante io farei un bel applauso anche a loro torniamo a parlare di Samantha adesso abbiamo qua Francesco e Carlo io direi a Francesco visto che hai già il microfono in mano ti chiederei durante la missione di Samantha qual è stata la sua alimentazione? durante la missione mangiava barrette con frutte e cereali e anche pasti a base di quinoa ma c'è anche un'altra curiosità Samantha ha bevuto un espresso in orbita e mangiato uno snack con farina di grilli e i mirtilli Urca Carlo visto che ci hai appena dato questa notizia e tu ne hai mai mangiata la farina di grilli? no ti piacerebbe provarla? no neanche a me ascolta che cosa ti ha colpito? soprattutto perché avete scoperto anche che sulle stazioni spaziali si riesce a vivere si riesce a fare quasi la vita normale cosa vi ha colpito di più? a me ha colpito che come hai detto tu si può vivere sulle stazioni spaziali è bellissimo perché cioè tipo una persona può andarci là a starci tipo Samantha c'è stata tantissimo quindi mi piace che lei c'è stata tanto e che si sia trovata bene secondo te Francesco Samantha ci ha dato un bel esempio? sì perché comunque tipo se se una donna vuole fare vuole fare la puliziotta un uomo dice che non la può fare ma tutti hanno diritti di fare il lavoro che che vuole sentiamo magari anche Carlo tu qual è qual è il tuo sogno cos'è che vorresti fare? ancora non lo so perché perché non vedo molte persone che fanno tante cose quindi non riesco a capire cosa fare eh tanto hai tutto il tempo ancora per pensarci bene un bel applauso anche per me torniamo ad avere tre bambine qua davanti a me perché ho Amelia Luna e mia e ad Amelia visto che hai già in mano il microfono ti chiedo come si sente ad essere la prima donna ad aver fatto un'impresa così difficile è stata la prima donna a fare a fare la differenza ed è grande ispirazione per tante altre donne e visto che insomma ci sono qui anche Luna e Mia si è mai verificato un problema magari durante le sue missioni chi mi risponde? durante le sue missioni non è successo mai niente di grave anzi sono stati fatti esperimenti per studiare gli effetti dell'assenza di gravità sui tessuti umani e voi c'è qualcosa che vi accende le passioni che vi è piaciuto studiare che vi ha insegnato qualcosa? mi piacciono gli animali tipo un animale piccolo non tipo c'è tipo c'è un leone che comanda tre gruppi di animali che sono piccoli e praticamente l'animale piccolo dice che non è giusto perché solo perché il leone è grande può comandare mentre invece chiederei a Luna tu che rapporto hai con la natura visto che ci ha parlato Mia proprio di ambiente sì io vorrei diventare quando sarò più grande una veterinaria perché mi piace tanto stare con i cavalli e ho felicità e mi sento libera e ad Amelia che cosa interessa qual è il tuo sogno qual è il tuo obiettivo che vuoi raggiungere io vorrei laurearmi in ortodonzia ma alcuni pensano che è per maschi alcuni pensano che non ce la farò queste cose ma io vorrei lottare contro vorrei dire che ce la potrò fare direi che sulla libertà che è uno dei più bei valori io direi che possiamo ringraziare le nostre inviate e fare un bel applauso un altro cambio qua in postazione e abbiamo Gabriele e Cecilia Gabriele hai già in mano il microfono e quasi quasi inizio con te ascolta Samantha ha dei figli come si chiamano cosa ci racconti innanzitutto si ha dei figli e si chiamano Kelsey Amel e Dorian Lev fino a qualche anno fa vivevano come una cosa normale avere una mamma astronauta ma adesso la figlia è grande ha capito l'importanza del lavoro e della madre ok Gabriele è tornato te il microfono abbiamo sentito anche Cecilia ovviamente perché oggi abbiamo un po' giocato con questa domanda ascolta Gabriele che cosa ti ha colpito di più di Samantha? allora mi ha colpito che ha battuto tutti gli stereotipi e non è di certo una cosa molto facile e anche per te Cecilia che cosa ti ha colpito? a me anche che è stata la prima donna italiana ad andare sullo spazio e a voi per esempio piaceva avere una Samantha Cristoforetti come mamma? sì io sarei contenta anche io sarei contenta e voi siete sicure che vi piacerebbe visto che insomma ormai le mamme del futuro saranno sempre più impegnate per cui insomma una mamma astronauta vuol dire stare stare un po' lontano da casa voi farebbe piacere essere magari più più da soli o cosa pensereste? sareste contente comunque dei suoi successi come mamma e come professionista quindi come lavoratrice? per me cioè non se non sto mi piace stare accanto ai miei genitori cioè mi piace proprio io quando sto accanto ai miei genitori cioè mi sento un po' più non mi viene più l'ansia proprio sto libera quindi no io lavoro accanto però se è lontana fa successo ok quindi Cecilia e Gabriella visto che voi siete le nostre ultime inviate speciali io faccio sempre un po' la domanda di Rito com'è stata questa esperienza di questo laboratorio in radio chi mi risponde delle due? io mi sono sentita cioè mi sono divertita mi piacciono a me piacciono tanto le cose nuove e tu Cecilia qual è la tua impressione? mi sono molto divertita perché è stata una nuova esperienza io direi che possiamo fare un bel applauso come consuetudine noi arrivati a fine puntata invitiamo anche le maestre io qui Michelangelo e Daniela Michelangelo direi che tu hai il microfono iniziamo da te così ci togliamo il pensiero anche perché voi non sapete ascoltatori che le maestre vengono avvisate all'ultimo in tutto questo noi io e Irene siamo un po' cattivelle nel senso che le informiamo all'ultimo che anche loro partecipano un po' come gli alunni adesso a parte gli scherzi Michelangelo ti chiedo magari un pochino alla fine di questo percorso intanto come mai avete scelto e perché avete scelto Samantha e un po' di impressioni quindi come si sono svolti i laboratori che impressioni anche avete avuto allora sinceramente abbiamo scelto questo personaggio documentandoci sulla biografia della Cristoforetti e ci è piaciuto questa donna temeraria che come avete sentito dalle varie interviste ha battuto i stereotipi questa parola l'avete sentita tante volte e oltre i laboratori loro si sono diciamo documentati anche con computer abbiamo visto tutta la varia le sue varie missioni e ci ha incuriosito perché è stata una donna forte che ha combattuto per la sua libertà e si è imposta come donna come super donna direi e Daniela invece tu che impressioni hai avuto come è stata la reazione anche dei tuoi bimbi dei vostri bimbi in questo percorso allora loro il primo incontro che abbiamo fatto a teatro lì alla farfalla sono rimasti molto incuriositi soprattutto della parola serotipo tanto è vero che oggi l'hanno ripetuto tante volte e abbiamo proprio trattato proprio la parola abbiamo lavorato proprio su che cosa significa veramente e devo dire che sono uscite fuori delle belle risposte delle belle idee e poi lo spettacolo teatrale li ha affascinati tanto è stato veramente molto molto interessante anche perché riusciva a trascinare molto bene il personaggio riusciva a farli entrare proprio dentro la storia e loro sono rimasti molto affascinati di questa di questa cosa e la parola l'avete sentito l'hanno ripetuta tante volte questa parola serotipo perché è rimasta proprio nella dentro di loro come un qualcosa da analizzare ancora da pensare da ragionare perché permette loro di cominciare a guardare in una maniera diversa le cose non è facile per loro perché sono in quarta elementare non è facile perché loro comunque però vengono da contesti dove lo stereotipo non perché voglio dire che ci sia per forza però purtroppo ci sta e quindi è difficile combatterlo e noi abbiamo anche cercato in qualche maniera di non far vedere lo stereotipo soltanto a livello femminile ma in genere sia per i maschietti che per le femminucce e questo è stata una cosa interessante perché da loro sono cominciate a emergere le cose tipo sai ma la mamma mi dice che non posso giocare con le femminucce non posso fare queste cose con le femminucce allora esce fuori poi lì proprio tutta una è come un fiume che cominciano a fuori da una parola cominciano a uscire tante altre cose a me è piaciuto molto il progetto siamo arrivati anche a parlare un po' visto che noi facciamo gli egizi le donne come erano viste che poi sì erano regine ma non farone quindi anche quello però è stato veramente molto interessante per loro veramente a me è piaciuto tanto io direi anche che dalla risposta che hanno dato i vostri i vostri alunni devo dire che avete fatto centro quindi insomma un bel facciamo un bel applauso anche le vostre maestre e come sempre tradizione di questo programma ricordiamo agli ascoltatori che se state guidando accostate perché adesso noi facciamo fare il saluto di rito a tutti i nostri bambini che sono qua davanti a me quindi al 3 siete autorizzati a fare un bel saluto gridando il nome del progetto ovvero Tana Libero Tutte Tana Libero Tutte a fare un bel saluto Grazie.